La mundanità è lo spirito che ci allontana dallo spirito di Dio, mentre le opere di misericordia sono il criterio di discernimento per non confondere i sentimenti, per capire se si è sulla strada giusta. Lo ha sottolineato Papa Francesco celebrando la messa a Santa Marta. Soffermandosi sulla prima lettera di San Giovanni Apostolo, il Pontefice ha poi rimarcato che nel quotidiano bisogna mettere alla prova gli spiriti, non i fantasmi, ma assaggiare quello che alberga nel nostro cuore, per capire se viene da Dio o viene dall'Anticristo. Quanta gente troviamo nella vita che sembrano spirituali, ma che persona spirituale è questa? Ma non parlare di fare opere di misericordia. Perché? Perché le opere di misericordia sono proprio il concreto della nostra confessione che il Figlio di Dio si è fatto carne. visitare gli ammalati, andare da mangiare a chi non ha, aver cura degli scartati, opere di misericordia. Perché? Perché ogni fratello nostro al quale dobbiamo amare è carne di Cristo. Dio si è fatto carne per identificarsi con noi. E quello che soffre è il Cristo che soffre. Grazie. Grazie. Grazie.